Ciao, benvenuti o bentornati sul canale della cuochina sopraffina. Oggi ricettina facilissima e buonissima, i baci perugina fatti in casa. Servono pochissimi ingredienti, questi qua. È una ricetta davvero facilissima e anche abbastanza veloce. Se siete dei pasticcioni come me, non otterrete un risultato perfetto in termini visivi, quindi i vostri baci perugina potrebbero non essere simili all'originale, ma il sapore sarà ancora migliore. Se invece siete bravissimi con le mani e quindi siete tipi da heart attack, allora i vostri baci perugina non solo saranno buoni, ma saranno anche bellissimi. Ricetta facile, veloce, buonissimissimissimissima e andiamo in cucina! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Tanta, 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 tantissima cioccolata! Dei baci perugina fatti in casa buonissimi, quindi se la ricetta vi è piaciuta, un thumbs up! Tutti i commenti nel box qui sotto! Se state cercando altre ricette potete visitare il sito www.lavlochinasopraffina.com che è anche il mio blog di cucina e viaggi anno gastronomici, oppure anzi anche iscrivervi al canale su YouTube. Quindi, un bel thumbs up! Commenti sotto, iscrivetevi al canale, visitate il blog e ci vediamo alla prossima ricetta!